Il coronavirus ferma anche le scuole, la reazione dell'ufficio scolastico regionale Lucano. Il coronavirus stop alle scuole ma anche oratori e catechismo, la CEI si adegua alla DPCM. Gli aggiornamenti del coronavirus da parte dell'azienda sanitaria di Potenza e le ricadute sul centro operativo comunale di Matera. Docce non funzionanti alla Pallasassi, la rabbia del presidente dell'Olimpia Sassone contro l'amministrazione comunale. Operazione IDRA preso l'ultimo del clan Schettino. No Time to Die, anche la prima del 007 ambientato a Matera, rinviato a novembre per l'emergenza coronavirus. Lo avete sentito dai titoli, il coronavirus ferma le scuole, la reazione, vediamo, dell'ufficio scolastico regionale Lucano. Circa 75 mila gli studenti lucani coinvolti dallo stop alle attività didattiche a seguito dell'emergenza Covid-19, situazione arrivata a sorpresa ma che non ha fatto trovare impreparato l'ufficio scolastico regionale della Basilicata. Una best practice tutta lucana, pronta per divenire capofila di un progetto nazionale, è quella messa in evidenza durante l'ultimo webinar territoriale, coordinato dalla sede di Potenza, riferito alla didattica a distanza. Da circa tre anni, infatti, l'organismo è protagonista di percorsi formativi in digitale, con supporto di leader privati nel settore, su piattaforme e modalità di collegamento tra docenti e ragazzi. Elementi emersi durante il collegamento con circa 120 plessi. Ad intervenire anche il dirigente D'Ambrosio, del comune di Voe Uganio, focolare dell'epidemia da coronavirus, il quale ha spiegato l'esperienza con la robotica educativa a distanza nella sua scuola, lavorando da casa. L'istituto comprensivo di Bella, tra i primi attivi in regione, ha invece evidenziato l'importanza del coinvolgimento tra docenti e famiglie nell'attuazione della didattica in ambito domiciliare. Grazie a Microsoft e quindi a tutta una serie di applicativi gratuiti messi a disposizione per tutte le scuole lucane da oltre tre anni, siamo riusciti ad essere pronti a queste nuove sfide, cercando di passare da una didattica in presenza ad una didattica a distanza. Noi in questi giorni stiamo supportando le scuole, come l'abbiamo fatto già l'anno scorso, con un ciclo di oltre 40 webinar destinata a tutta la comunità scolastica e con punte di ascolto molto alte, grazie al coinvolgimento degli studenti sulle tematiche più varie. Di conseguenza questa esperienza ha messo su una grande comunità online di innovatori della scuola, oltre 600 persone. Altre realtà che dal resto d'Italia già in queste ore hanno manifestato il loro interesse di condividere questa pratica. Realizzabile, senza difficoltà da chiunque, ciò che conta è la volontà di mettere insieme le energie, mettere insieme le conoscenze, mettere insieme le competenze, quindi al di là dei confini territoriali. Il prossimo 9 marzo prevista una webinar con protezione civile e task force regionale. Alcune scuole si stanno già attivando autonomamente, ma noi nella prossima settimana faremo un incontro virtuale con le scuole in cui cercheremo di dare delle indicazioni per una corretta gestione di questo momento. Immaginare una continuità delle attività anche in vista di una eventuale prosecuzione di questi provvedimenti di sospensione. E sullo stop alle scuole c'è anche il commento a Matera da parte della preside della scuola Torraca, Caterina Policaro, polo della scuola digitale. Sentiamo cosa ha detto. Siamo all'interno della scuola Torraca di Matera. Come vedete è completamente vuota, gli studenti non ci sono. Questa è una scuola polo regionale per la scuola digitale, quindi un riferimento anche per gli altri istituti. Ma come vedete a causa del DPCM firmato questa notte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le scuole sono ferme, ferme perché sono assenti gli studenti, c'è uno stop alle lezioni, però sono presenti i professori, i dirigenti scolastici nelle scuole per capire come andare avanti in queste giornate di stop. Sicuramente è una situazione emergenziale, credo sia la prima volta che le scuole in Italia vengono chiuse contemporaneamente e tutte insieme su tutto il territorio nazionale. Chiaramente si prosegue in che modo? Il decreto che stanotte è stato firmato dal Presidente del Consiglio e che quindi ci è stato diramato immediatamente per l'applicazione immediata, cosa prevede per le scuole? Prevede la sospensione didattica, quindi non la chiusura, infatti il personale delle scuole, dal dirigente agli uffici di segreteria, al personale ai collaboratori è in servizio, ma anche i docenti in realtà lo sono per le attività già pianificate da piano delle attività, quindi alcune attività si faranno, e per un'organizzazione che ci viene chiesta, che è quella di attivare per la durata della sospensione, e quindi fino al 15 marzo attivare le possibili attività didattiche nelle scuole in modalità a distanza. In maniera proprio semplice le famiglie adesso si chiedono dunque che cosa fare per far continuare gli studi ai propri figli, devono attivarsi autonomamente o riceveranno delle comunicazioni? Sicuramente il consiglio è non abbandonare a loro stessi i ragazzi, fornire dei materiali, la scuola si adopererà per fornire per quanto più possibile anche approfondimenti materiali, attività didattiche da fare, approfittiamo per leggere libri, approfittiamo per fare quanto i professori avevano già proposto, quindi magari studiare gli ultimi argomenti, eccetera, e attendere, in questione tra oggi e domani, insomma in queste 24-48 ore, da ogni dirigente scolastico, le varie direttive che saranno date agli insegnanti, che contatteranno in qualche modo le famiglie, anche per il tramite del registro elettronico, perché poi non dimentichiamo che abbiamo lo strumento principe che abbiamo messa anche in comunicazione con le famiglie, anche dirette al registro elettronico. Consultate spesso i siti delle scuole, questo mi sento di dire, perché le comunicazioni saranno diramate prontamente da ognuno di noi. E lo stop scolastico ha provocato, scatenato reazioni anche delle mamme, tra figli da sistemare, chat, fake e notizie, e ce lo racconta Alessandra Martellotti. Un decreto che ferma le scuole, un commento a caldo su questa decisione? Questo ha provocato sicuramente nelle famiglie un po' di sconvolgimento, perché oggi ci sono le famiglie in cui si lavora papà e mamma, quindi bambini che non possono soffrire magari dei nonni, dei nidi, delle strutture, in cui solitamente le famiglie si appoggiano in caso di chiusura della scuola, stamattina erano un po' in allarme. Stiamo aspettando un decreto che possa un attimino andare a disciplinare la presenza di papà o di mamma a casa in questi 15 giorni, che possa permettere comunque alle famiglie di stare in tranquillità, in serenità con i bambini a casa. Attualmente non abbiamo ancora ricevuto nulla. Il problema resta per i possessori di partita IVA e per i non dipendenti, quindi per chi ha il lavoro improprio, in quanto come spesso accade non c'è una tutela rispetto a questo. Ieri c'è stata anche un po' di confusione sulla comunicazione, un po' di fughe di notizie smentite, poi di nuovo notizie confermate. Qual è stato il clima sulle famose chat delle mamme? Il clima era sicuramente di preoccupazione, di cercare delle soluzioni immediate. C'erano decreti finti e decreti immaginari che giravano fra le varie chat. insomma le mamme erano, c'era un bellissimo messaggio che ha girato un po', che diceva i gruppi delle chat delle mamme potrebbero trovare il vaccino per il coronavirus perché tenere i figli a casa e non sapendo come gestirli diventerebbe complicato. E si attendono novità dalla Consiglio dei Ministri per un secondo decreto con misure economiche per l'emergenza da coronavirus e sostegna la famiglia e al lavoro. Nel servizio gli ultimi aggiornamenti. Con i primi due casi di positività al coronavirus in Valle d'Aosta, tutte le regioni d'Italia risultano ormai colpite dal virus. Sul versante della comunicazione, in attesa dei dati aggiornati nel consueto bollettino del Commissario straordinario per l'emergenza Borrelli, il Governo è tornato a riunirsi a Palazzo Chigi per un Consiglio dei Ministri nel corso del quale sono state, tra le altre cose, esaminate le misure di sostegno già annunciate dal Ministro per la Famiglia Elena Bonetti per aiutare i nuclei familiari sui costi delle babysitter con i voucher in merito ai quali sono in corso valutazioni economiche. Sul tavolo presieduto da Conte è anche l'ipotesi di congedi straordinari per i genitori che devono restare a casa per accudire i figli. Parallelamente all'annuncio della sospensione delle attività scolastiche, il Ministro Lucia Azzolina ha disposto l'attivazione della pagina web del MIUR per supportare la didattica a distanza. Si tratta di un lavoro in progress che sarà comunque costantemente aggiornato nei prossimi giorni. Ma dal CDM si attendono novità anche a tutela del lavoro e dei lavoratori in queste settimane di emergenza. Il Ministro Nunzia Catalfo ha parlato dell'ipotesi di rafforzamento del fondo di integrazione salariale e dell'estensione sull'intero territorio nazionale della Cassa Integrazione Inderoga a beneficio dei lavoratori che non sono coperti da altri ammortizzatori sociali o che sono occupati in aziende che le hanno terminati, intervento che riguarderà il settore privato compreso quello agricolo. Qualcosa si muove anche dall'opposizione con l'annuncio arrivato questa mattina dai leader del centrodestra che venerdì in Senato presenteranno proposte comuni. E a seguito del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante la chiusura delle scuole di ogni ordine grado e delle università, la conferenza episcopale di Basilicata ha stabilito che fino al 15 marzo saranno sospese le attività di catechismo e di oratorio in tutta la regione ecclesiastica lucana. Una decisione prudenziale che consentirà, si legge, di prendere precauzioni igienico-sanitarie dinanzi all'epidemia del Covid-19 seguendo scrupolosamente le istruzioni del Ministero della Salute e dei medici di famiglia. Già il 24 febbraio la conferenza episcopale di Basilicata unitamente ai comportamenti prudenziali e suggerimenti del Ministero della Salute aveva indicato per i luoghi di culto della Basilicata le seguenti misure svuotare le acque a santiere evitare il segno della pace durante la messa dare la comunione solo sulla mano evitare le condoglianze al termine dei funerali dei trigesimi e degli anniversari lavarsi bene le mani presbiteri, diaconi, ministri della comunione sarebbe inoltre opportuno si leggerà ancora sospendere incontri comunitari promuovere in tutte le chiese l'adorazione eucaristica quotidiana di domenica dove c'è particolare flusso di gente inserire qualche altra messa. e adesso andiamo a potenza con gli ultimi aggiornamenti da parte dell'azienda sanitaria Le competenze dell'Asp riguardano la gestione piena del percorso del caso sospetto o del paziente accertato dal domicilio fino alla parte ospedaliera quindi tutto il percorso territoriale fino all'ingresso nel reparto di malattie infettive ospedaliero laddove ricorrono le condizioni cliniche che secondo principi e criteri di appropriatezza dettano la necessità del ricovero in ospedale il lavoro procede benissimo la task force costituita dal dirigente generale del dipartimento competente il dottore Esposito si è insediata con immediatezza tutti i presidi sanitari dei competenze dell'Asp quindi le strutture distrettuali gli ospedali distrettuali fin nell'ultimo più lontano più remoto ambulatorio della provincia di Potenza ovviamente tutto il personale sanitario viene dotato dei dispositivi di protezione individuale siamo approvvigionati anche di mascherine FFP2 piuttosto che FFP3 grazie al supporto indispensabile e imprescindibile della protezione civile c'era da aspettarselo non a Tricch ma in generale c'era da aspettarselo abbiamo elaborato come Asp e diffuso ovviamente un protocollo di selezione per quanto riguarda la candidabilità dei casi all'effettuazione del tabone ci ha consentito finora e ci consente di gestire al meglio l'emergenza ricorrente e in merito è arrivata anche una nota da parte della task force regionale informano che in Basilicata non ci sono novità sull'emergenza coronavirus rispetto all'ultimo aggiornamento fornito ieri dall'ufficio stampa al momento sono stati effettuati in totale 54 test di cui soltanto uno positivo per informazioni sull'emergenza è possibile rivolgersi al numero verde 899 66 88 attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20 l'istituzione del numero verde regionale passiamo a Matera 899 66 88 e quello della protezione civile del centro operativo della comune 826 26 67 compensano e potenze nell'attività del COC della comune di Matera il quale resta a disposizione dei cittadini intanto diverse le misure adottate dalla comune per la prevenzione in primis il rispetto della distanza di un metro tra le persone stiamo evitando il concentramento delle persone non superando il numero di 10 ingressi in comune spiega la referente del COC Maria Rita Iaculli stessa cosa per i consigli comunali non potranno assistervi più di 30 persone sempre per garantire la distanza minima per la prevenzione stessa cosa varrà per gli stessi consiglieri comunali infine dice ancora stiamo facendo stampare diffonderemo presto in giro per la città una serie di manifesti informativi riguardo alle minime accortezze igieniche e ai contenuti del DPCM il comune ha inoltre interrotto tutti gli eventi pubblici fino al prossimo 3 di aprile e adesso parliamo delle docce non funzionanti alla Palasassi di Matera interviene con decisione e determinatezza il presidente dell'Olimpia Matera Rocco Sassone tutti i dettagli non bastava e la coronavirus ad infelicitare la prima dell'Olimpia Basket Matera alla Palasassi una situazione che ha causato il rinvio del match contro il riuvo del primo all'otto di marzo a porte chiuse e l'annullamento dell'evento collaterale con la partecipazione della noto giornalista Dan Peterson ci si è messa anche l'amara sorpresa delle docce non funzionanti motivo quest'ultimo che ha causato lo sfogo del presidente della squadra Rocco Sassone contro l'amministrazione comunale la prima squadra della città detto in una nota è stata lasciata sola è vergognoso inaccettabile e inqualificabile che si possano verificare situazioni simili avevamo avuto rassicurazioni da parte della comuna in merito alla disponibilità del Palasassi già dal primo di marzo con un evento che avrebbe dato grande visibilità al match data la diretta sul canale streaming della Lega a pochi giorni invece dalla disputa della partita di campionato scopriamo che la struttura non è ancora pronta e ci sono ancora dei seri problemi negli spogliatoi è molto netta la società si legge ancora dal comunicato nella diffidare l'amministrazione comunale a mettere quanto prima la squadra nelle condizioni di poter disporre di un impianto efficiente e sicuro se non sarà così fanno sapere si valuterà la possibilità di non disputare la gara in programma domenica prossima contro il Gruvo la constatazione la constatazione delle docce non funzionanti si è avuta dopo l'allenamento congiunto svoltosi mercoledì pomeriggio sempre a porte chiuse con il Castellaneta dopo pochi minuti dal loro utilizzo gli atleti non sono stati messi nelle condizioni di completare i propri lavaggi di rito una situazione quella venutosi a creare che il CDA dell'Olimpia stigmatizza come molto grave Andiamo alla cronaca con l'accusa di detenzione illegale di una pistola calibro 36 di 15 ordigni esplosivi ridumentali e di una ventina di munizioni calibro 12 scoperti durante una perquisizione effettuata ieri nell'ambito dell'operazione IDRA contro il clan mafioso Schettino a Tursi nel Materano un uomo di 36 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri l'arma gli ordigni e le munizioni erano nascoste in un magazzino adiacente all'abitazione dell'uomo ritenuto dagli investigatori organico al clan Schettino ieri nell'ambito dell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di potenza i militari dell'arma hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di persone ritenute appartenenti al clan che opera nell'area ionica lucana nel corso di un'altra perquisizione sempre a Tursi i carabinieri hanno scoperto circa 10 grammi di marijuana nell'abitazione di una donna di 24 anni che è stata denunciata in stato di libertà alla magistratura e sempre con la cronaca erano sempre di 4 modelli le circa 30 automobili rubate in provincia di potenza solo nella prima metà del 2019 dalla banda sgominata oggi dai carabinieri che hanno posto agli arresti domiciliari 5 persone 4 di Cerignola e una di Melfi i ladri secondo le indagini coordinate dalla procura della Repubblica di potenza facevano parte di un'unica organizzazione promossa e gestita da due pregiudicati cerignolani con il concorso degli altri tre indagati la loro attività in particolare a Melfi Rio Nero in Vulture Barile Rapolla e Lavello è stata tanto rilevante da portare tra il 2018 e il 2019 questi 5 comuni tra quelli italiani più afflitti da questa tipologia di reato di particolare matrice predatoria la banda agiva con centraline decodificate sostituite a quelle montate sulle auto da rubare la vettura veniva aperta i fili di accensione disarticolati la centralina sostituita e ricollegata quindi motore acceso messo in moto e auto sparita le modalità tutte ricorrenti consuete ben consolidate avevano allarmato i cittadini adesso parliamo dell'agenzia della regione per la protezione dell'ambiente di Basilicata per Fanelli arrivano nuovi finanziamenti sentiamo nonostante le ben note difficoltà finanziarie nel bilancio che ci apprestiamo ad portare all'attenzione del consiglio regionale è previsto un importante stanziamento per l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente l'ARPAB una scelta politica chiara con cui la giunta regionale ribadisce la necessità di investire nel settore dei controlli ambientali che sono essenziali per la tutela della salute e dell'ambiente avviando così concretamente una prospettiva di cambiamento lo ha detto il vice presidente della giunta regionale della Basilicata Francesco Fanelli che a potenza con l'assessore regionale dell'ambiente Gianni Rosa e con il commissario straordinario dell'ARPAB Michele Busciolano ha incontrato i rappresentanti dei sindacati per illustrare lo schema del nuovo assetto organizzativo dell'ente l'idea è quella di voltare pagina all'ARPAB ha detto Rosa e proviamo a ripartire perché l'agenzia possa svolgere pienamente il servizio a cui deputata per farlo il commissario straordinario ha sbloccato le risorse per la terza fase del masterplan dando impulso alle procedure concorsuali a tempo indeterminato già avviate e cercando di recuperare il tempo perduto per far svolgere in tempi brevi attraverso le procedure informatiche certificate e sicure i concorsi per circa 80 assunzioni a tempo determinato previste a copertura delle nuove assunzioni la giunta ha previsto nel bilancio 2020 maggiori stanziamenti per l'ARPAB per 2 milioni di euro la pagina della cultura presentato ieri dal giornalista Paolo Riumitz a Roma il nuovo progetto del MIBACT intitolato Appia Regina Viarum pane per pane 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 bupana iupana iupane buca pan can ut psumi can uguay pane panis al via dal pomeriggio di mercoledì 4 marzo la mostra fotografica documentaria e multimediale curata dal camminatore Paolo Riumitz che insieme ai suoi compagni di viaggio Riccardo Carnovalini Alessandro Scillitani e Irene Zambon nell'estate del 2015 ha percorso a piedi in 29 giorni il cammino lungo l'antico tracciato romano della via Appia la presentazione ufficiale si è svolta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con Dario Franceschini che insieme allo scrittore e giornalista Riumitz ha illustrato il progetto del MIBACT denominato appunto Appia Regina Viarum valorizzazione e messa a sistema del cammino lungo l'antico tracciato da Roma a Brindisi si parte è un progetto da 20 milioni di euro che non sarà soltanto una cosa calata dall'alto ma che vedrà il coinvolgimento delle popolazioni quindi sarà qualcosa che richiederà assolutamente noi veglieremo perché questo accada il controllo e la manutenzione da parte delle comunità locali che spero possano sentire in questa via un centro della loro esistenza e anche una valorizzazione della loro marginalità perché la bellezza di questa via è proprio il fatto che ridà centralità a delle terre che sono considerate dagli stessi abitanti come marginali e dimenticate dal potere l'esposizione allestita nel casale di Santa Maria Nova all'interno del parco archeologico dell'Appia Antica diretto da Simone Quillici è promossa dal segretariato generale del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e invita alla scoperta della prima grande via europea molto di più del cammino del Santiago dopo decenni di oblio eccola ridiventare percorribile un progetto di portata europea che tocca quattro regioni e coinvolge gli italiani da Roma a Brindisi nella parte meno conosciuta e forse più autentica della penisola e tra le vittime degli slittamenti provocati dall'emergenza coronavirus c'è anche quella della prima dello 007 ambientato a Matera No Time To Die rinviato a novembre sentiamo una vetrina mondiale posticipata di ben otto mesi con tutte le conseguenze che questo potrà avere sull'indotto turistico della città dei Sassi e delle realtà limitrofe la produzione di No Time To Die lo 007 ambientato a Matera con diverse scene girate anche tra Ginose e Gravine in Puglia fa slittare l'anteprima mondiale delle ultime gesta di James Bond dalla 31 di marzo alla 25 di novembre il motivo sempre lo stesso l'emergenza coronavirus che di fatto sta paralizzando ormai molti settori soprattutto culturali della vita del bel paese portandosi dietro pian piano anche altre realtà europee le date previste per l'uscita della pellicola nelle varie nazioni saranno comunicate in un secondo momento si conosce ad ora la data degli Stati Uniti il 25 novembre mentre nel Regno Unito la distribuzione inizierà il 12 novembre in Italia la data prevista inizialmente era quella della 9 di aprile la nota ufficiale dello slittamento è stata pubblicata sulla pagina Twitter di 007 MGM Universal i produttori di Bond Michael Wilson e Barbara Broccoli hanno maturato la decisione si legge dopo molte riflessioni e una valutazione del mercato cinematografico a livello globale No Time to Die come si ricorderà diretto dal regista giapponese Fukunaga prevede scene spettacolari di inseguimenti e azioni tra gli stretti vicoli degli antichi quartieri in tuffo di Matera e l'interesse per questo film resta altissimo in Italia soprattutto nelle due regioni interessate Basilicata e Puglia Ebbene era questa l'ultima notizia impaginata per oggi grazie per aver scelto la nostra informazione e buon proseguimento